Alla protesta degli studenti dell'Istituto Falcone di Gallarate risponde il dirigente scolastico Vito Elacqua, disponibile ad un'intesa e all'opera per trovare una soluzione. Per quanto riguarda le temperature, che sicuramente in questi giorni anche quella esterna sia un po' abbassata, noi come controllo che facciamo e che la provincia sta monitorando siamo fra i 18 e i 19 gradi, quelli previsti. Chiaramente che ci possono essere degli abbassamenti in questo periodo ci sta, però i tecnici della provincia sono già venuti, hanno fatto tutti i rilievi possibili, per cui se ci sono dei malfunzionamenti li sistemeranno. Per quanto riguarda invece le perdite di acqua, si tratta di dover effettuare una manutenzione riguardante le guarnizioni dei vetri, che chiaramente è già stata pianificata, ma ci vogliono tempi e modi per poterla mettere in atto. Come tutte le cose, anche i materiali hanno dei tempi di vita, per cui la manutenzione naturalmente va fatta, però naturalmente va programmata. Questa è la situazione, i ragazzi lo sanno benissimo, ne avevamo parlato, per cui sono a conoscenza. Dopodiché è un loro diritto ed è giusto che facciano avanzare le loro voci e noi li ascoltiamo.